Inter batte Porto 1 a 0 il gol di Lukaku Big Rom attesissimo decide questa andata decide il primo atto della doppia sfida agli ottavi di finale di Champions League Lukaku l'uomo probabilmente più atteso entra e segna lui i cambi decisivi in questa partita sicuramente con un mister Inzaghi che a gara in corso ha fatto le scelte giuste che hanno fatto svoltare una gara tostissima Sivo il Porto lo sapevamo un avversario forte rognoso equilibrato quadrato forse forse secondo me abbiamo avuto anche un po' troppo rispetto nei loro confronti che hanno cercato di provocarci di farci nervosire in alcuni momenti siamo un po' calati siamo un po' caduti nelle loro provocazioni però l'Inter ha dato per me la dimostrazione di essere più forte forse avremmo potuto dimostrarlo meglio abbiamo rischiato di prendere gol su qualche ripartenza decisivo Onana sicuramente questa volta sì ci ha messo le manone a salvare il risultato ma non solo e poi alla fine finalmente ci ha girato anche dal verso giusto un'occasione dove Lukaku di testa colpisce il pallo ma poi il pallone gli finisce sui piedi e la mette dentro io Simo chiudo questa partita soddisfatto perché abbiamo fatto il nostro dovere abbiamo vinto la partita il Porto è rimasto in dieci negli ultimi dieci minuti circa speravo magari di provare a fare anche il secondo nel finale con il Porto in dieci però oggettivamente non era facile visto quanto stavano proteggendo l'area di rigore quanto si stavano difendendo con tanti uomini tanto grazie a De Pica Pica e a lei le 84 tra pochissimo leggiamo i vostri messaggi tu Simo che dici che impressione ha avuto su questa partita? No sono d'accordo con quello che hai detto rimane cioè la nostra tra virgolette esultanza al fischio finale è stata molto contenuta perché comunque è stata una partita dove c'era modo di farne un altro e quindi ti rimane un pelino rammarico però se dimentichiamo per un attimo questo ragazzi abbiamo davanti un inter che ha vinto un'altra partita importante ottavo di Champions in casa contro una squadra più esperta e con dei tassi con un tasso tecnico anche decisamente all'altezza alla fine hai vinto hai sofferto il giusto perché loro hanno avuto un paio di occasioni però direi che dal primo al novantesimo il pallino della gara è sempre stato tra le nostre mani anche per scelta del Porto che comunque ha voluto interpretare buona parte della partita in questa maniera l'Inter secondo me ha dato le risposte che che servivano perché non è stata dominante come in tante altre partite ma non lo è stata perché giocavi in ottavo di Champions contro un avversario forte e quindi non puoi necessariamente sempre essere così dominante però io fin dall'inizio ho avuto l'impressione che i ragazzi pur nelle difficoltà avessero le idee chiare su cosa fare e nella ripresa ho avuto l'impressione che dopo i cambi azzeccatissimi apro e chiudo parentesi di Lukaku e di Gosens loro abbiano avuto un impatto devastante perché secondo me due tre migliori in campo a cui aggiungerei Cialanoglu e c'era una grande voglia di vincerla si è percepito consapevolezza di poterla fare e voglia di farcela alla fine con anche un pizzico di fortuna nella sfortuna perché la palla ti torna sui piedi ma dopo che hai preso il palo la vinci meritatamente e ragazzi il Dodragao è un fortino però l'Inter andrà secondo me con la faccia giusta e con la qualità giusta per me questa qualificazione ovviamente è apertissima però per me i ragazzi non avranno paura del Dodragao poi passano ancora due tre settimane però io sono ottimista sì anche perché penso che il gol e quindi la vittoria abbiano sbloccato hanno fatto abbiano fatto fare un po il click dal punto di vista mentale l'Inter io la sensazione che ho avuto concordo con te col fatto che tutti sapevano quello che dovevano fare e c'era convinzione però mi sembrava una squadra un po con un freno a mano tirato e infatti quelli che sono scesi in campo dall'inizio o sono cresciuti col passare dei minuti nonostante poi devo dire simo nel primo tempo l'Inter ha creato forse le occasioni migliori in termini proprio anche di tiri in porta tra Lautaro Martínez e l'occasione clamorosa di bastoni nel secondo tempo abbiamo creato occasioni potenziali perché lo specchio della porta non lo stavamo centrando fino a poi ai minuti finali dove abbiamo trovato il gol c'è stato anche un tiro in faccia di il nostro portiere del porto e se ci puoi riepilogare un attimo le formazioni poi diamo anche un paio di giudizi sui singoli partita simo tra le altre cose condizionata dal nervosismo loro hanno cercato anche di provocare lo sapevamo soprattutto otavio che poi meritatamente si è preso il cartellino rosso per il secondo giallo ottenuto devo dire anche il campo non ha aiutato l'Inter ha provato in alcuni momenti a giocare anche ad esprimere un po più di gioco a terra e gioco un po più qualitativo Onana spesso si è lamentato lo abbiamo visto lamentarsi del campo un prato non in perfette condizioni anzi eh sì questo anche Cialanoglu ha scivolato continuamente per tutta la partita nonostante comunque abbia giocato molto bene ma le azioni beh nel primo tempo dicevamo partiamo con Lautaro che di testa completamente solo la mette alta perché non colpisce bene al dodicesimo e poi Ciala che mette qualche brivido a Diogo Costa quasi da calcio d'angolo calciando diretto poi arriva una doppia occasione per il porto la prima Gruic che calcia alto la seconda Gruic più Galeno parata di Onana e ribadisce fuori per fortuna di testa il compagno al trentasettesimo e poi c'è un altro miracolo di Diogo Costa su bastoni proprio all'ultimo secondo del primo tempo di testa che reagisce con con grande reattività nella ripresa Uribe calcia alto al quarantottesimo Barella risponde al cinquantaduesimo calciando fuori di poco poi ci sono due importanti occasioni per il porto obiettivamente la prima con Onana che riesce a bloccare un tiro di Taremi in ripartenza ma soprattutto la seconda con un triplo intervento Skriniar Onana Onana che salvano una potenziale occasione da gol e poi azione che si è conclusa con un fuorigioco poi è tornata a farsi vedere l'Inter Barella alto al sessantottesimo l'occasione fin lì forse più importante con Lautaro che per millimetri non arriva ad appoggiare in rete il cross teso di Lukaku e qui già si intravedevano delle trame molto interessanti poi negli ultimi quindici minuti è successo un po di tutto prima Taremi a giro calcia fuori di poco al settantatresimo Barella all'ottantaquattresimo ancora fuori di poco all'ottantaseiesimo arriva il gol di pura prepotenza di Romelu che riceve un cross di Barella anticipando Pepe colpo di testa palo la palla gli torna sul sinistro e la scaraventa in porta con grande rabbia Lukaku che poi pochi minuti dopo ha un'altra occasione dove tira una fucilata addosso a Diego Costa e poi ci riprova venendo rimpallato da un difensore un paio di situazioni sto vedendo anche adesso gli highlights in cui il porto aveva davanti a sé del campo da prendersi e poi magari non sono arrivati al tiro ma comunque modalità success con l'udinese diciamo più o meno però a un certo punto secondo me l'inter l'ho proprio accettato cioè si è visto che ha portato tutti i centrocampisti tranne Brozovic e i difensori dietro tutti a ridosso dell'area e lì ha detto io ci provo poi sono consapevole di prendermi un paio di ripartenze la cosa ha pagato perché è venuto 1-0 e quindi bene così ringrazio Thomas Bizioli per la super chat grazie Thomas adesso leggiamo anche il tuo messaggio io Simo vado in chiusura di questa clip dicendo che questa partita secondo me ci ha dato un'altra grande notizia molto importante almeno per me che la spina dorsale di quest'Inter è costituita da giocatori molto importanti molto forti nel senso che se devo individuare tre giocatori che secondo me più di tutti oggi sono emersi a livello di rendimento Onana è stato decisivo tra i pali e questa volta Onana ha fatto quello che io mi aspetto dal portiere dell'Inter quello che gli chiediamo parate decisive che influiscono sul risultato le occasioni ci sta che l'Inter qualcosa inevitabilmente deve concedere in Champions League quindi è compito anche del portiere di una grande squadra fare quelle parate decisive mi aveva lasciato perplesso un po il nervosismo che c'era stato nel primo tempo con Dzeko però non ha influito sulla prestazione che è stata decisiva di Onana davanti a lui c'era una prestazione clamorosa stasera da migliore in campo probabilmente a livello proprio di prestazione e Lukaku davanti io l'ho visto entrare molto bene il gol è dal centro avanti puro lo stacco di testa è praticamente perfetto finisce sul palo ma poi è cattivo abbastanza da metterla dentro e il portiere e la punta bisogna metterli nelle condizioni di rendere al meglio e finalmente lo abbiamo fatto entrambe hanno fatto molto bene mi è piaciuto l'impatto anche di gol senza gare in corso dicevi anche tu e anche brosovic mi è piaciuto come come ingresso con personalità tanti segnali incoraggianti da qui in avanti non so se vuoi selezionare qualche altro giocatore che ti ha impressionato e voglio sapere che ne pensi sul rigore sì ma secondo me c'era sul termine sì diciamo che forse la la chiusura finale di calvarese è quella più giusta rigore che c'era ma non da var è un po brutto perché a me questa dinamica qui non piace cioè come dire la scelta corretta era quella ma scelgo di non intervenire però sappiamo che il protocollo è così quindi vabbè e sulla prestazione no sono d'accordo con quello che hai detto oggi credo che sia difficile dare delle insufficienze oggi perché poi alcuni giocatori tra la prima frazione nel primo tempo e la ripresa sono migliorati penso per esempio a Mkhitaryan che comunque non ha fatto la partita da vita però nel primo tempo era molto in difficoltà ha fatto anche un paio di falli nella ripresa un pochino è cresciuto lo stesso Cianoglu stava già giocando bene però per me è esploso nella ripresa dimostrando una mettendo in campo ancora una prestazione monstre decisivi li hai detti tu giustamente Onana ma soprattutto Lukaku e Gosens che sono entrati a gare in corso non è per fare polemica però quel timoroso che abbiamo in panchina oggi ha azzeccato ancora i cambi ha messo Dunfries per Skriniar e non per Darmian quindi ci ha provato fino all'ultimo in Champions League mi sembra che i risultati parlino per lui continua a scrivere pagine importanti adesso vedremo cosa accadrà al Dodragao però ognuno poi sui gusti però almeno i risultati che quindi sono tangibili e oggettivi diamogli lì mettiamoli sul tavolo ecco si parte dal vantaggio di 1 a 0 allora il Dodragao dove non ci sarà la regola del gol in trasferta ovviamente quindi bisogna giocarsela a maggior ragione fino all'ultimo e non avranno Otavio che quindi è squalificato l'Inter ha rischiato di perdere Lautaro Martinez che ha fatto un intervento un po' avventato su Peter fortunatamente non è arrivato il cartellino giallo e così non è stato ammonito quindi lui era diffidato e non non salterà per fortuna la gara di ritorno bene molto soddisfatto tanti segnali positivi speravo anche in un bel 2 a 0 che purtroppo non è arrivato ma cercheremo di rifarci al Dodragao questo può essere veramente un trampolino di lancio secondo me per questa Inter in questa seconda parte di stagione e ce lo auguriamo iscrivetevi mi raccomando al canale e ci vediamo tutti i giorni in diretta e vi aspettiamo se volete anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club stab www.passioneinter.club duck puoi